ciao a tutti amici sto iniziando si spera la missione preliminare chiamiamola così giusto per arrivare a rapinare la pacific standard c'ho questa missione convoglio e praticamente la penultima rubare le moto rubare le moto eccolo qui rubare sto dicendo le moto per la fuga le moto si chiamano principe io ce l'ho ma la son tenuta cioè l'ho comprata voglio dire perché mi è piaciuta come moto diamo un veicolo se c'è scritto passeggeri sì eccoci il player qua davanti perché vedevo mezza striscia blu significa che praticamente non ha il giubbotto antiproiettile senza quindi non ha più protezione evidentemente ci sente sicuro andiamo a vedere a anche io se prendo la moto arrivo prima ma ho preso questo per un motivo perché se lo devo utilizzare almeno gli elicotteri se mi dovessero lanciare i missili a ricerca di calore non mi fanno saltare in aria solo per quello c'ho l'elicotteri che già sta arrivando ancora lontano cazzo spari ehi coglione prese deve stare sopra lì quindi va bene gli altri purtroppo spero che non muoiono perché se non si mettono a riparo non so come dirlo vabbè andiamo andiamo a prenderli dai se mi muori cazzo andiamo a prendere sto camion cazzo spari il camion proteggilo cazzo questo è morto qualcuno è senti e vista questi e quelli che purtroppo sono qui andiamo a prendere io chi sono quello con cosa mi ha dato in meno sono io questo con i pantaloncini corti c'è ancora l'arma guardate mi lascia come bug l'arma speciale beh a questo punto quasi quasi le riutilizzo con i proiettili esplosivi per esempio non mi ha dato io c'ho il fucile così di precisione con i proiettili esplosivi che basta un colpo e andava giù ce l'hanno normali sono morti guarda mi dà l'arma speciale del colpo del casino che mi sembra che non ci sono e tra l'altro dai 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 quindi sai cosa la Perché sono fermi? F***ing Merriweather! They must have access to satellite imagery! They know where you are and they're coming! You're talking now! They're taking it! They're taking it! They're taking it! They're taking it! Another dead! Happy Urss! Happy Hour! Happy Hour! Happy Hour! That's what I have done! It's definitely what I'm using I'm using the .50 on the Mennacher On the middle of the Mennacher I'm not the guide So... Wow! It's a little bad The game has done a bit fucile praticamente il fucile di precisione senza esplosivi invece fucile d'assalto me lo dà con le cartucce che io non ce l'ho nel set perché non lo voglio utilizzare perché ce l'ho cioè praticamente io ce l'ho questa arma ce l'ho tutte perché ho comprato il bunker la vedete questa colonna è il caricatore azzurra ma io ce l'ho in realtà disabilitato e non continua ah scusa sali certo che hanno una testa ma non spara io non posso sparare via sto cazzo di camion un pozzo ha preso manomale e il 50 è forte il calibro 50 si ce la facciamo manca molto poco il cammino lo stiamo proteggendo sono proprio incollato io non lo molo il camion elicotter eh non mi si si l'ha visto meno male preso finito dai dai che siamo arrivati dai ce n'è qualcuno dietro l'ultimo bersaglio ormai è lontano siamo arrivati dai questa l'abbiamo finita bene o male che c'è poi le moto e il colpo il grande colpo di allora nel 2013 adesso mi sembra che la poco alice non l'ho mai fatto e spero di farlo devo capire un attimo cosa cosa devi comprare ma aspettiamo qui e siamo riusciti giustamente non ero io al volante ma essendo il leader mi manda qua e a prendere queste qui che servono per mettere davanti le serrature delle sbarre della pacific standard per aprire e basta ma non è che esplode squaglia capito squaglia la serratura non so cosa fa vabbè questa missione è andata bene loro hanno preso i soldi adesso non so quant'è sarà un 26 30.000 insomma giù di lì perché è difficile 26.000 credo e e e praticamente adesso vediamo con le moto come andrà e poi c'è il colpo colpo finale e poi voi cosa volevo dire anche hanno fatto bene comunque a fare la preparazione al casino che la faccio io da solo che la potrei fare con degli amici ma praticamente la faccio io da solo come perché qui le preparazioni le le preparazioni le preparazioni speriamo ah non è stato rapinato di solito e praticamente le preparazioni ero lì su questo discorso sì le faccio io quindi è più sbrigativo ecco questo volevo dire vediamo se lester mi ha mandato no non sono io non arriva questo benedetto messaggio di lester non so perché vabbè comunque vado io dai vado giù io verso casa man mano man mano dovrebbe arrivare il messaggio che di continuare il colpo una volta arrivavano subito e ho notato che non arrivano più richiesta amico e dopo vediamo ah collisioni devi andargli addosso arrivato ma manco morire guarda invito a scia mortale mi dice fucca america vabbè fucca fotti di america adesso questa polizia sa perché mi stava aspettando l'amore I take it this isn't a social call oh hey you're in trouble ok I'll deal with it forse perché nel questo qui delle collisioni è possibile che non arriva un messaggio praticamente mi sembra che la rockstar non vuole che facciamo più soldi va avanti ancora il solito discorso che è stato per tutti una cosa un po brutta che uno dei comprarsi soldi comprando spendendo non so allora 30 euro per dire 8 milioni e non giocando ok siamo arrivati per il secondo tempo io adesso questo video fermo qui perché questa missione andata a buon fine e riprendo da qui col secondo video perché non so che player praticamente avrò ok al prossimo video al secondo che sono le moto per la fuga della pacific standard